Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono One SunnyTube e vi do un benvenuto in questo canale. Prima di tutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da non perdervi nessun contenuto che pubblico in questo canale e mettete un bel pollice in su per supportare i contenuti che pubblico in questo canale e naturalmente parlo per tutti i tifosi, iscrivetevi, milanisti, juventini, interisti, razziali, romanisti, fiorentini, bolognesi iscrivetevi, non vi costa nulla. Allora, ve l'avevo promesso che avrei fatto un video dedicato perché comunque c'è gente che ne ha già puttato, proprio pubblicato i propri pareri personali riguardo a questo caso qua e appunto vado subito a sodo perché comunque è giusto parlarne ed esprimere naturalmente la mia opinione naturalmente leggendo l'articolo, analizzandolo e poi commentandolo e poi per il resto sì dire la propria ecco allora sport mediaset e qua ci siamo se non avete visto quello che è successo martedì sera ha veramente qualcosa dell'incredibile naturalmente dopo la supercoppa naturalmente faccio ancora le congratulazioni per i cugini perché lo meritate, complimenti e non voglio entrare nel dettaglio arbitri perché già in un video dedicato se non l'avete ancora recuperato ragazzi vi invito a recuperarlo perché lì ho espresso il mio parere riguardo all'arbitraggio in Italia quindi andatelo a vedere però ragazzi questo è dedicato sempre a qui cioè questo qua invece è questo che sto registrando è un video comunque dedicato a quello che è successo martedì sera perché naturalmente molti hanno già parlato e vado dritto a dunque comunque esclusiva le iene un arbitro in attività un arbitro comunque che non si sa la faccia perché naturalmente è camuffata e cioè non è che camuffata la voce è camuffata mister x come possiamo chiamarlo un incognito un arbitro in attività denuncia gravi anomalie nel sistema ok tu sei un arbitro che attualmente arbitra in serie A io ora sarai curioso ma chi è che sta arbitra cioè chi è costui chi è costui può essere chiunque può essere chiunque però sarai proprio curioso leggendo l'articolo naturalmente leggiamolo da Sport Mediaset la denuncia del fischietto al programma d'Italia 1 situazione insostenibile servizio non del martedì 20 di legge non della prima serata allora proprio nei giorni in cui sono forti le polemiche per gli errori degli arbitri in campo e al VAR le iene raccolgono le iene raccolgono una testimonianza inedita sono un arbitro di serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me e per altri arbitri sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia perché mi sono deciso a parlare? per amore del gioco del calcio e perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva ok qua bisogna dare mente locale se tu ami il calcio non potresti essere imparziale? perché qua per amore del gioco del calcio perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva ma anche perché questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti arbitri attraverso un sistema di valutazione del loro operato che presenta molte anomalie a parlare in esclusiva è la prima volta nella storia del calcio italiano un arbitro di Serie A che in un intervista a Filippo Roma dopo aver spiegato i motivi per cui sceglie di mantenere l'anonimato essendo ancora in attività e temendo ripercussori per la propria carriera affronta una serie di criticità del mondo degli arbitri in Italia a partire dagli errori commessi secondo lui dai colleghi in campo e non sempre corretti dagli arbitri al VAR per continuare la scelta delle immagini che vengono mostrate al pubblico per giustificare alcune decisioni prese dal VAR infine racconta come secondo lui almeno 5 tra arbitri e assistenti starebbero ricorrendo alle vie legali contro l'AIA l'Associazione Arbitri Italiani e la CAN la Commissione Arbitri Nazionali in servizio nel nome della stasera martedì 20 ore prima serata su Italia 1 nel video anche l'intervista sul distruttore degli arbitri Gianluca Rocchi e le critiche sull'operato degli arbitri da parte di noti Gianluci Sporti come Fabrizio Caressa e Ivan Zazzaroni invia perché vuoi parlare in forma anonimata perché sono ancora certamente ci sarebbero le percussioni ok per esempio il caso del rigore negato al vabbè qua parla comunque di episodi arbitrali di Bologna Bologna Juve di Genova Milan a parte che là vado già dal presupposto che non è fallo di mano non ci sono immagini chiare che sia fallo di mano come potete dire come potete dire e qua sto a dire come potete dire che il gol di Pulisic in Genova Milan sia un gol di mano allora parliamo del gol di Udoge perché anche quello in Udinese Milan Milan Udinese è gol di mano e lì giustamente non ne parliamo non ne parliamo perché comunque è una cosa a sfavore del Milan ma qua stiamo a sfavore di tutti perché ok ripercorrendo quel video in cui vi ho detto il mio parere personale riguardo riguardo all'operato degli arbitri e del VAR in Italia andatelo a vedere perché comunque c'è sempre perché bisogna essere imparziali comunque a questo punto se nessuno vuole arbitri umani passiamo alle macchine passiamo alle macchine passiamo passiamo ai robot tanto non è che cambia tanto la cosa esiste davvero una lotta ecco ecco c'è un'altra l'inviato chiede all'arbitro esiste davvero una lotta intestina tra due fazioni di arbitri che si sfideranno le prossime elezioni di categoria tra qualche mese e che condizionano in qualche modo il loro lavoro in arbitro in campo e al VAR l'arbitro risponde questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti di noi naturalmente perché la gente allora vi dico questa la gente comunque anch'io mi ci metto guarda sempre l'operato dell'arbitro a prescindere dalle partite può essere sfavore può essere a favore di un'altra la gente guarderà sempre l'arbitro perché è lì è lì il punto di riferimento sta lì il punto di riferimento quindi il punto è che l'arbitraggio in Italia ve l'ho sempre detto deve avere sempre un'evoluzione ma come fai a fare un'evoluzione come la metti a mettere l'evoluzione la metti come la palla a volo come la palla a volo perché puoi dire oh voglio un check del VAR uno un altro un altro check all'uare eccetera eccetera chiedi la pausa e chiedi un check potrebbe fare però non so se questa sarebbe la soluzione e si potrebbe limitare comunque a essere scandalosi comunque perché io onestamente non so se ve l'ho detto o l'ho detto recentemente nei miei video non sono uno che dice Marotta League VAR Inter e sono milanista a prescindere vi dico già che sono milanista ma questo non è il punto non dirò questo non dirò perché 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 l'arbitraggio in Italia mette a sfavore chiunque chiunque non solo l'Inter ma chiunque quindi possiamo solo guardarci così il calcio così senza l'evoluzione comunque ci dovrebbe stare non so quando ma un'evoluzione nell'arbitraggio sia al VAR sia nel VAR nel VAR a prescindere dalla VAR e nell'arbitraggio ci dovrebbe essere perché ragazzi se non cambieremo le cose qua peggiorerà ancora la situazione e non cambierà nulla siamo nel 2024 non è cambiato nulla quindi con l'introduzione della VAR la VAR ha aiutato comunque però è andata di più sul contro rispetto al PRO quindi e ricordiamoci che la VAR è esistita sei anni fa se non erro o no è stata l'Italia a inventare la VAR non l'Inghilterra non la Francia non la Spagna non la Germania non il Brasile no è stata l'Italia a inventare la VAR quindi il punto qual è? è che ci dovrebbe essere un'evoluzione e lo ripeto per la seconda volta lo ripeto per la seconda volta per chi per chi non lo capisce ci dovrebbe essere un'evoluzione sia nella sia nell'arbitraggio delle partite sia nella Sala VAR perché io mi ricordo anche una partita in Premier una una partita in Premier Liverpool Tottenham in cui ora non mi ricordo chi era il giocatore che sembrava in fuorigioco ma non era in fuorigioco non era in fuorigioco non lo superava la linea del fuorigioco è andato fuorigioco ha dato fuorigioco oppure i Manchester City Tottenham sempre partita di campionato uguale però lì la situazione cambiava lì il City stava facendo un'azione da gol stava per fare un gol con Greenwich e lì fischia l'arbitro perché eh visto quindi chiudendo il video non so potete anche insultarmi potete criticarmi potete vabbè augurarmi la morte per carità no 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 grazie però ditemi come la pensate perché comunque quello che ha detto quello che ha detto l'arbitro alle iene alle iene secondo me dovrebbe un po' far riflettere tutti dovrebbe un po' far riflettere tutti e ora sarei proprio curioso curioso perché di sicuro allora a prescindere secondo me secondo me prima o poi salterà salterà corona comunque se vi ricordate se vi ricordate corona con i casi del cos'era delle scommesse non ne sbagliava una eh non ne sbagliava una quindi sarei proprio curioso se corona individuasse quel tizio lì quel tizio che ha parlato alle iene sarei proprio curioso nel caso viceversa lo beccasse qualcun altro non si sa vabbè ragazzi ditemi la propria perché comunque è giusto che commentate commentate e allora programma di domani allora domani farò un video sul calciomercato calciomercato comunque riguardo al Napoli perché comunque in Napoli si sta muovendo tanto tanto in questa sessione invernale e allora mettete un bel pollice in su iscrivetevi attivando la campanellina in modo tale da non perdervi nessun contenuto che pubblico ditemi la vostra su cosa su quello che ha detto l'arbitro che attualmente dirige una partita in serie A non si sa chi è quindi ditemi la vostra ci vediamo domani non so se domani mattina oppure pomeriggio o pomeriggio non ci sono o domani sera vabbè quello che è ci vediamo domani per nuovi contenuti quindi state connessi da OneSanitube è tutto ciao 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 Grazie.